Bentornati giovani sono qui nel terzo episodio della serie Mass Effect Andromeda e sono qui per fare l'incarico di Ron Sherry Nexus, devo parlare con Tankash e Candrus, ecco la Edison Non si possono scompare subito, eh? E come? C'è il romanticismo, se qua si diavolo, vuoi fare un po' poi, quando puoi fare il romanticismo, se devi sempre completare una storia d'amore, una relazione E non c'è più Non è vero, dopo quattro mesi di colonizzazione, scusami se non prendi un po' di tempo Non c'è successo di colonizzazione in più di un anno, come c'è città? Non c'è più che pensi, la scurge, i mondiali, gli esili, i hostili Non possiamo solo portare un posto e aspettare piettini, necessitiamo il pass finder e Sam per scuotare, evaluare e inspirare Per il verde per a Antonio Andromeda non ha cooperato E se si avrebbe? Un pesce utopianos Colonie che producono e supportano le altre Il nexus è Citadel Non è guidato da Tan O anche io C'è anche la tecnologie strana C'è qualcuno studiato? C'è provato Non io Le cervelli sono usurp C'è dovuto sapere il suo negozio Non vediamo C'è quello che ha fatto C'è questa è la tecnologie Come si è av Jabba C'è questa è la tecnologie Iniziamo C'è questa tecnologie L'oltre C'è quella del nostro C'è程 C'è un'illcard C'è quella dell'Escoppo C'è un'illante C'è quello che potevano C'è questo C'è un po' di Mi ha lasciato una carriera perfettamente adecuata come chief officer. Provinciale capitol anche. Solo una nuova galaxia potrebbe portare. E qui siamo, idoli. Mi ha chiamato a Alec? Non c'è nessuno. Molto di noi ha chiamato l'initiative per il suo visione, quello che ha parlato con lui. Voi amici? Voi? Voi? Voi non sei la mia madre, se ci chiedi. Voi amici. Voi amici perché non usi il titolo. Cazzo, prega. Sennò per me non corrompemi i coglioni e Addison. Ok, Etenos. Così... Tu cazzo che saremo amici. Anche i co... amici amici. Voi solamente una collega mi sa. Sennò cazzo il corpo? Poi... Poi, ma... Poi vediamo. Inizio. Sennò che avevi accaduto. Cazzo... Poi che avuto. Questa è una cosa. È veramente delicata. Chiaro Cosa del Cifo che appena il momento, Addison? Cosa del Cifo che ha fatto? Cosa del Cifo che sta a prendere il Cifo che non ha spostato. E lei mi ha dato un po' i gulioni. E quindi con il Hyperion che si è piaciuto per aiutare il nostro corpo, la mia squadra e io possiamo fare più di lavoro. Ehm, che tipo di lavoro faccio come superintendente? Sono parte dell'attività che ho originalmente designato e costruito questo posto. Mi guardo la stazione funzionale o come funzionale possibile. E' vero? Io so io e' asteri colgato. Non hai parlato ancora di numero 8, hai? No altro? Ah! 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 Ma come l'ambiente? Il problema è successo? Il clan si gesto la parte della sua parte, ma Tan aveva un blocciamento quando trovavamo che chiamavamo più valutati qui. E poi il sostegno Addison, Spender, ha dimostrato di non fare il problema in prima volta. Fai una malata, ma non mi togliono i miei persone per andare fuori. Siamo finissimi sentire di uscita. Con il tuo clan è morto, perché hai permanato? È complicato. Ah c'è un punto, una sorta di ambasciatore Questo è un altro arte con Marco perché Cosa? Wow, guarda, usiamo i primo ammucili, a quello che è Gien Garson? Ah tu si può avere Nexus Chiaro Ah è vero oggi lo facevano Che Vi permette di avere bambini E se scopate crepate Bella Se a dire Mass Effect 3 l'ho curata Cosa Per questo Cosa 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 infatti è difficile impedire ai cronin come se non la nasce siete carri armati viventi già, allora si ha nuova vita lasciamo ci passano alle spalle eh, ho subito di una cura mi abbia lato e la sì, grazie a me grazie ad Alex Shepard ripeti 600 anni? cosa aveva combinato? cazzo, cosa? 600 anni dalla quale mi passa via Lattea, dalla via Lattea più la quale beyond all the statistics it means more krogan children the only way my people have a future later adesso voglio parlare con Candros che è là Sì Beh, fai parte della sicurezza, è un grande ruolo. La milizia? Infezione. I CAT. Ah, è così li avete chiamati? I Gaccio verso quella d'Andromedra. Eh, è così. Non c'è un problema. Non c'è un problema. Non c'è un problema. Non c'è un problema. E' una sorta di commozione casuale. Non c'è un problema. Le condizioni di voi Turian invece come sono? Ok, alla prossima. Vai, Candace. Adesso è massimamente tanto. Eh? Mi fai parlo? WTF? C'è cosa succede? Ok. E' un bel inferno, cazzo. Quindi finalmente vi dati di me? Vi dati di Libertype, che cazzo voglio? Sì, che cazzo? Ti gatti? Oh, potrebbe essere quella la causa Posso le mandalizzarle? Così scopriamo perché sono sezionati Poi faccio rendermi vivi un pianeta Un cazzo di pianeta Cicc intero Non mi stigare, Dan, non mi stigare Infatti è vero Allora, se dovessimo di io Dovrebbe essere Cora che dovrebbe sostituirmi Capitano, tu mi che potete andare e io ci vado Che cazzo succede? Ok Tutto a posto, Arno Te ringrazio, sei l'unico che non ha chiesto No, sei il secondo Ti prometto che le troverò Gli arche mancanti, quali sono? C'è un'informazione che puoi darmi sulle arche mancanti? No, e questo è la parte distrazione Le arche mancanti, Asari, Turian e Salarian Sono completamente non raccomandate E' che sono scompaissate E' che sono scompaissate Ma io dai Ma io dai Il mio prato è il nostro aiuto Cosa ho bisogno di considerare in fare un planeto viable? Assumendo che il planeto supporta la vita E l'outposte è cruciale Le persone come un ruffo A loro head E tu vuoi eliminare alcune strade hostiliche Presunzioni avanzate Cazzo Il problema del Nexus invece Cazzo Ho visto come cazzo è ridotto dall'esterno Con questo attacchi di Nexus Siamo una casa abbandonata A proposito, come è morta? Madonna Che sfiga E' il mio padre Cazzo Una cucina Un'immagrazione Cazzo Il problema Si Cazzo Un problema L'eigenza Di I D' Cazzo Il problema Il problema Contra bandieri, banditi, no, esuli Parola di Solana Kelly Solana Kelly Una vera pezza di me da quanto pare Invece in Krogan dove che si trovano? No, da come ho visto con Kesh può usare anche il cervello E come ho visto anche in Atrium G Mass Effect Non sono solamente tutto muscoli, hanno anche cervello e cuore Pensate, s'hanno quattro di cuore ma quello è un altro discorso E a parte che vi sta, che vi odono anche loro Siamo anche i Krogan E' rifatto da genofascine Genofascine Non mi ricordo che cosa si dice Beh, quella lì che non gli permette di fare ma bistro Anzi Iniziativa di Andromeda invece Questo è vero Con me lo diventerà Sarà tranquillo Devi fare molte domande e aver molto risposto ancora a ragazzi Perché così sappiamo un po' di più le cose Le cose abbiamo alcuni idea più chiara E mi dice la partenza invece E mi dice la partenza invece Speciale in su un nexus E mi dice Dove? Dove? Dobbiamo aggiungere il Krogan Facciamo come la seconda cosa la facciamo Il tuo ruolo Cosa ti occupi? Quali il tuo specifico obiettivo? Il tuo progetto? Siamo a uno stallo Me l'ha detto Me l'ha appena spiegato prima Infatti perché dubita? Dubita Non devi imitare Il precedente E fagli capire quello che vale Fagli te Te Non fagli Vedere questo come quello vecchio E fagli capire Cosa è te Con le tue idee E i tuoi metodi Punto Cosa vuoi dire oggi? Oh madonna Silvano Con il camara caffè Sparare in via a casa Grazie Ok qui non c'è un po' di cassa da dirti A prossima Altrettanto Ok qui non c'è un po' di cassa Ah qui non c'è un po' di cassa Sì deve essere qui Che intendi Che c'è? Di cosa vi occupate? Che c'è? Che c'è circa Fagli Choro Cosa Ci sono Jugosia E ci ho Deve Non c'è Non c'è Non c'è bisogna Alla La Questa Questa La Questa Le Oh Beh No ah boh ok un inizio, andiamo a farlo devo andare sull'iperion, quindi sull'arca umana ancora? che cazzo c'è qua? hello sono dei robbi coglioni, punto grazie che mi difendi Cora ok ok ancora bisogna andare sull'arca e cercare con Sam sembra bene, mentre sei qui, magari vedrai come si sta hai ragione cazzo, la sua capsule non si è per niente aperta come era nel primo episodio come avete visto nel mio episodio contro le sue situazioni non voglio parlare anche lei già ho perso mia madre e mio padre non voglio parlare anche mia sorella allora, dobbiamo andare al minuto Sam è qui quindi qua cosa c'è? mi piace ora dove c'è? ah questo 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 c'è? la SS mia la SS era no 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 la mia vecchia nave il Mass Effect quanti c'è? quanti c'è? non sa che c'è? guardi che c'è ah cosa c'è qua Sam? il mio padre ma chi è del mio padre sono incrittati ah non c'è la generale partendo dalla Via Latte e finalmente qui siamo stupendo dalla terra passiamo tra due passi prima poi passiamo una venta di via con un'alto piacere è trattante pensare di spesso e i miei sogni attorno al Hyperion, sicuramente ho la mia, non ero il suono o il padre che dovrei essere, spero che 600 anni possa cambiare un uomo. Sintesi che è organici, sintesi, però ancora un prezzo, la vita di Shepard. Mi manchi gli anni. La natale 600 anni, sono un cazzo. Perfetto Messaggio da Dottore Straddore Messaggio da Merced Messaggio da Merced Messaggio da Merced Alla Galaxie Dicevo tutto un'età C'è un DLC del Proton C'è un Proton in carne d'orsa vivo e vegeto E' un curvello Me sembra di dare Perfetto Me sembra di dare Ci sono molto Ci sono molto Perfetto 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 . Perfetto Mi piace di lasciare così, perché sono questi momenti quando hai detto ai tuoi figli di loro che li li amavi più ofteni, o sempre, ciò che mi porta alla parte difficile. Poi ragazzi, se qualcosa succede a me, ci sono cose che tu vai sapere, spero che tu lo capisci. Ti voglio bere anche io, papà. Oh, però, ma chi è del caffè? Però mi è piaciuto di sentire la voce di Liara, bellissimo. Ciao Sam. Meglio così. E' questo? Hai detto che abbiamo bisogno di discutere qualcosa di più confidente. E tu devi sapere certi fatti prima di lasciare la tua expedizione. E' sembra che il meglio parlare solo. E' quello che vuole è questa? Non ho capito la necessità di proteggere il tuo padre. E' quello che vuole? E' quello che vuole era cercare? E' le mie capacità? E' le mie capacità. E' io voglio lirare. E' quello che vuole vora? E' io voglio lirare. E' io e tu. I can act as a force multiplier, dramatically enhancing your motor and neural skills when required. Alec called them profiles. They provide unique tactical augmentation during combat. Mmm, questo sarà molto utile. La seconda e terza genera paranoia. I am fully sentient, far beyond what even the initiative understands. Cosa? Vuoi dire che come Ida Mass Effect 3? Però ricorda, Sam, comando io. Cosa? Ottimo. Può essere sicuro. Per da dire? Per da dire? 1-0 per Alec. Ok. Ok, grazie. Penso un incursore. Ma l'obiettivo è questo. ESPLORATORE! Facciamo onda d'urto. Combattimento. Facciamo. Biotica. No, tecnologia. Utile. Ecco, fine. Voce di precisione. Può mettere l'ora. Un adulto. Assegna. Voila. Ah, poi si poi contro più avanti. Ho raggiunto la mia nave. Perfetto. No, non vado sotto la nave. Quelli li farò off camera e li farò vedere poi tutti insieme in un video. Per andare nella mia nave, puoi andare vedere come sono le condizioni di mio sorello. Ponte Stasi. Se non sbaglio l'infermeria sarebbe sempre qui davanti a noi. Sara. Mi dispiace anche a me. Com'è morto. Eh, cazzo, è che è proprio... Sei un medico, dimmi la tua teoria, la causa. No, è molto eroe. Dimmi proprio com'è. Sì. Grazie, metodo dottore. Lo spero anch'io. E saranno i risultati. Quindi... Ehm... No. Eh. Ok. Ehm... 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 Qui si è voluto venire qua per fare qualche soldi muro. da fare, queste sono le condizioni di mia sorella, perfetto, aia, cosa, dottore, doc, t'affido, mia sorella, la sua vita è nelle tue mani, vuoi essere aggiornato sempre sulle sue condizioni, sempre, non posso perdere anche lei, mia famiglia che mi è rimasta, anzi, cotex, arca, ah, guarda, pesi di andromeda, cat, sti figli di puttani, potverone, sentivo di andromeda, contatti noti, sempre, in impianto, iniziativa, iniziativa, iniziativa e apex, exos, tiran kandis, jarun tan, nakmur karshi, poster edson, addison, impianti, ea di supporto, l'avventura finale, trovare una casa, pesi, che schifo, io so, abita, il nostro è dentro le virgolette, diciamo, che fa cagare, è un cosa che è? il mio forte mi verba Cazzuto Noi diciamo SSR Normandy Number 3 Ma no quant'è bella Oh light per questa meraviglia Questo gioiello di nave Infatti Una Turian femmina Non l'ho mai visto Ho sempre visto Turian musk Mai femmine Mai Questa meraviglia è bellissima Alpha Alpha Rider Che è il mio rumano Combattente Spero Sai cosa ti dico? Fan culo Partiamo E' così che cazzo vuole Facci partire Qualcosa non va Eh che cazzo Non c'è un giro E' un po' Corruzione Cominciamo già con i primi Creati illegali Anch'io No per favore Non voglio rivederlo Dopo la prima discussione Per favore Cazzo Ciao Ben detto Eh forse il caricamento E' un po' E' un po' Non voglio rivederlo Doc Piacere Piacere mio Gil Sarà molto utile Ti chiamano S Come ci parlano Ok Sarà una grande avventura Che intendi Che intendi Inizeremo il nostro viaggio Verso Andromeda A scoprire i suoi segreti Ricordate Lasciate un like Commentate Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi E noi ci vediamo Nel prossimo episodio Di Mass Effect Di Mass Effect Andromeda Da Alpharider Questo è tutto Passi Tutto Grazie a tutti.